Che computer comprare se devi iniziare a studiare architettura o se sei un professionista di questo settore? Inoltre Windows o Apple? Domandona. Ecco insomma sono belle domande non semplicissime da rispondere perché ovviamente ci sono vari fattori da considerare, però proverò a farlo. Inoltre alla fine che cosa ho scelto io? Allora innanzitutto bisogna considerare che per fare architettura o iniziare anche soprattutto all'università a studiare architettura si può partire dai software più basilari, quelli di scrittura, di gestione dei conti, Excel o tutto il pacchetto che può servirci per studiare. Ma se poi andiamo nello specifico proprio per l'architettura ovviamente poi ci servono i software 3D o comunque per fare render o comunque per ovviamente redigere i progetti che andiamo a fare. E ovviamente sui software avevo già fatto un altro podcast ma per citarne ci servirà AutoCAD, Revit, Photoshop, per cui sia dalla progettazione ma anche quello di editing di immagini proprio perché bisogna poi andare a creare magari anche delle immagini virtuali come sono i render. Quindi tutti questi software sono dei programmi abbastanza pesanti da utilizzare un computer e quindi ci serve abbastanza potenza e quindi come primo consiglio è andare a comprare un computer di fascia medio alta. Almeno questo è il mio primo consiglio perché se andiamo a risparmiare ecco che insomma magari inizialmente potrebbe anche funzionare ma nel corso di un po' di tempo che si accumulano anche un po' di sporcizia volendo nel computer o comunque la potenza viene sempre aumentata da parte dei software che utilizziamo ecco che diventano un po' più lenti ed è un po' più difficile ecco avere un lavoro fluido e veloce. Quindi come primo consiglio è andare a comprare un computer di fascia medio alta per appunto lavorare facilmente che non si blocchi in continuazione e anche soprattutto secondo me che possa durare per più anni. E infatti magari secondo me è un piccolo investimento che può servire per la durata ecco di un computer. Infatti se risparmiate come ho detto già potrebbe funzionare ma dovendo lavorare intensamente per far girare questi programmi probabilmente si sforza più del dovuto e probabilmente sarete costretti a cambiarlo prima del previsto ecco. E quindi spendete un po' di più che starete un po' più tranquilli ecco. Ma a quale computer a prescindere che sia Apple o Windows quindi che caratteristiche dovrebbero avere per essere già un buon computer? Ecco questa non è una domanda semplice in quanto ogni anno le caratteristiche si modificano, le potenziano. Quindi già adesso magari vi do delle caratteristiche che fra un anno sicuramente sono già cambiate se ne ho non parlare fra due, tre o quattro anni. E quindi bisogna sicuramente andare a vedere insomma a livello generico le caratteristiche principali è il processore, la RAM o l'archiviazione e quindi quanto spazio possiamo tenere all'interno e poi soprattutto per l'architettura la scheda video. E quindi giusto per fare un esempio ad oggi probabilmente vi consiglio di andare su un processore che potrebbe essere della Intel per esempio Intel Core i7 che è già un ottimo processore. Ci sono già ancora adesso ci sono anche gli i9 ma già un i7 è un ottimo potenza oppure un AMD Ryzen 7 e che già possono funzionare bene. Le RAM poi per passare alla RAM già ad oggi si passa sicuramente 8 è il minimo ma sarebbe meglio 16 secondo me sarebbe 16 gigabyte sarebbe già un compromesso buono ma se anche abbiamo 32 non fanno male. E poi appunto per l'importante che non tutti i computer già partono con la scheda video ma per l'architettura un consiglio che vi do è richiedere il computer alla scheda video. Ok se ha una scheda video che almeno ha 1 o 2 gigabyte ecco già è un componente appunto molto importante per poter far girare bene i programmi di 3D. E quindi questo è un po' una panoramica generale ma che come vi ho detto potrebbe anche cambiare dall'oggi al domani. Inoltre per lavorare bene ecco un altro consiglio che vorrei darvi da non sottovalutare sono le dimensioni dello schermo. Ovviamente io anche personalmente ho comprato un computer portatile perché comunque ero fuori sede e per studiare all'università è probabilmente una scelta quasi obbligatoria. E quindi avevo puntato per un 15 pollici che secondo me è la dimensione minima che è per lavorare facilmente appunto su un computer. Ovviamente se poi state a casa potete comprare anche il televisore da 40 pollici da mettere in camera però questo è un altro discorso. Però ecco non sottovalutare le dimensioni perché poi quando si vanno a fare i progetti linee su linee ecco dovrà stare troppo vicino allo schermo perché insomma vedere bene non è neanche salutare. Quindi per lavorare facilmente e senza sforzarsi è importante ecco valutare anche le dimensioni dello schermo. E alla fine di tutto quali computer comprare senza lasciando ancora da parte tra Apple o Windows che ormai probabilmente faccio un altro episodio appunto a prescindere da questo quali sono le marche migliori e peggiori ecco qui diventa complicato perché ognuno ha la sua teoria ognuno si trova bene magari con una certa marca e quindi la va a consigliare. Io non mi sento di dare una marca in particolare perché bene o male sono tutti buoni computer senza dover andare a comprare certe cose magari cinesi a basso prezzo che magari non si conoscono le marche ma le marche principali Asus, HP, Acer, Dell per parlare di Windows per poi ovviamente l'Apple ha la sua categoria. Sono tutti ovviamente computer molto validi e inoltre troverete probabilmente vi consiglieranno anche dei computer adatti per il gaming cioè per giocare e effettivamente utilizzando molta potenza grafica sono dei computer anche molto adatti per l'architettura. E quindi anche io ero un po' in dubbio per valutare se comprare un computer del genere però a suo discapito è che sono tutti molto colorati molto pesanti anche molto voluminosi ecco quindi bisogna anche insomma e valutavo anche l'estetica. Questo non c'entra per la potenza di calcolo ma essendo magari noi architettici piace anche avere un prodotto piacevole da avere tra le mani e quindi non sono poi ricaduto su quella scelta ma in linea generale anche un computer per gaming ha delle caratteristiche ottime e normalmente anche un prezzo corretto ecco. E per finire io vi già introduco che ho avuto per 5 anni dell'università un Apple avevo scelto di comprare un Apple ma poi anzi dopo 6-7 anni che avevo l'Apple ho dovuto cambiare e attualmente ho un Dell XPS di 15 pollici quindi sono andato sul Windows. E quindi potrei assolutamente darvi degli altri consigli se comprare Apple o Windows ma a questo punto alla prossima puntata.